musica 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 i glo... vieni vieni mi sono di tutto quelli di perditi ah 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 no aiuto stai morta mi hanno fatto un head shot la fame sto per morire è un creep shot mi volerà insieme a me colpirà tutti ciao a tutti ciao a tutti nooo 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 io li sto uccidendo no no e si vincere a dislo no continuo a dire esportarmi ovunque boss battle no no fermi 15 maledetti e da tre giorni qui di farò schifo non ho chi stato subito non ho chi stato subito non ho chi stato subito e difenditi per salvare io perdo oh facciamo schifo lo sa ciao si chiama ha già le dominante no con la femmina che cammina sull'acqua con la femmina che cammina sull'acqua di qua per il momento siamo al sicuro ce l'hai dietro ce l'hai due passi ce l'hai due passi ahhh ti vendichero no 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 non ti voglio più vendicare non ti voglio più vendicare no 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 sei dovuto è più solente non mi va di vendicare no 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 ti ucciderò da parte mia muoio ma non vale questo è questa la cia nooo ci sono molto complesso l'hai ucciso diciamo l'hai ucciso che cosa la per la 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Ipollo. Ipollo. Io vorrei fischio. Attentato! No. No. Ipollo, Ipollo. Che grande nerofo. Noi ti adoriamo, non sapevi questo. Noi ti adoriamo. Io voglio medicarmi! No! Non fanno, no! Si chiamano un bacio, quindi Ehi, che cosa ha? Guarda, si può essere... No! Io sono una pena morto! Andare via! Andare via! Uno è suicidato quindi ne rimane uno Quello lo effettiamo e poi non ci sarà nessuno Questo è il nostro obiettivo e quindi noi Distruggeremo il mondo e poi Mangeremo poi Che carino che sei! Che carino che sei! Ciao! Ciao! Sì! Sì! Sì, sì! È bellissimo Silvio! No! 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 Destruggere! No, 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 no. Destruggere? Oh, no, no. Poveretti. Sì, e questo è il tizio bello. Si chiama Bo. Si chiama. Tu sei solamente un pallone con piatto. No, è vero. Come ti permetti di fattermi in questo modo. Ecco, facciamo il bianco. No, 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 non è bianco e giallo. No. è già lo piano providersi ehi ma che cosa ci fanno le siti ciao voglio proprio vedere con una gamma come facciate 마무�icano con la testa Ma, c'è la gi... Sbatti addosso! Soldi, soldi, soldi! Che cosa stai a? Cosa stai a? Ma io mi chiedo che cosa sia questa cosa! Ci sono solo nei commenti e... Il primo immagine? Ok! Bella faccia! Se lo indovinate... Voi vincerete! Un saluto su un video! Il primo che ce lo dice! Sì! Che vuoi? Indopinate che cos'è questo! Le scommesse finiscono ora! Ehi, due di due! Sono diventato un tizio brutto! Brutto! Ehi, soldi! Vuoi così? Perché c'è l'immagine di C3PO quando io sono un tizio simile? Eh, infatti! Questa è cattiveria! Ok, dopo la... Vai! No, entrerò col droide e uscirò con un B1! Non credo! Nooo! Guarda, Ian! Guardala! La cosa... Mariaaa! Ce la sto per fare! Ce la sto per fare...! Ce le sto per farà...! C'era! Questo è bello successivo! No, ti fico! Grazie a tutti. Grazie a tutti.